Con questa serata ragazzi si va a debuttare la serata domenicale con le partite su Peggolo Tricky Towers Settimana prossima ci sarà live su Tricky Towers Formula 35 No vabbè, facciamo a caso Ho un'ansia della madonna Qua dobbiamo far fuori tutti e 35 i tondini Hai i tondini Ho sbloccato le chiele del signore Giochiamo a Flipper, giochiamo malissimo a Flipper, facciamo cagare Porca miseria che Flipperata della madonna Ma davvero non c'è nessuno di voi che conosceva Peggol? Non parlatemi, verrete immediatamente bannati Se direte soltanto una parola per quanto riguarda Peggol 2 Che è un gioco del demonio Un gioco satanico Satanico che viene giocato solo da brutte persone Ok? Chi scriverà belle cose su Peggol 2 verrà istabannato Basta, non c'è nient'altro da dire Fanculo È la madonna però, amici Però non mi può dire queste cose qua Oh, bravo amici Bravo, bravo Fabio Bravissimo Bravissimo Se non vuole cadere in fallo Non dica niente Ma dica soltanto che bello che è sto gioco Che è tipo bellissimo Fate conti che io Quando mi viene a trovare il mio big amico Il bell'uomo che non si sente da eoni purtroppo Perché ha cambiato lavoro Quindi non riesce più a postare Pesso di pomeriggio Ma con lui Quando viene a trovarmi Ci facciamo ancora le mega partitone Maratone Con Peggol Alla grandissima proprio Fanculo Ah Brutto 10.000 E fanchigallo Audio tutto a posto Ma che tra l'altro No, Michi Se mi consentano Le sfide Sì 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 Anche tutti gli altri video Però purtroppo Con il fatto che Ha cambiato lavoro E quindi E che non registro più Da Con la scheda d'acquisizione Non avrei più possibilità Di Come dire Di fare Adesso ditemi Quanto è bello Quel quadro qua Guardate i micetti Quanti sono belli Parte la sfida Contate tutti i gatti Che ci sono in questo quadrante No Stavo dicendo Ma Il dente da giudizio È un dente inutile Cioè Che tiro della madonna Fatto Cioè È l'inutilità Fatta a dente Adesso dovete contare Tutti i gatti Che ci sono Tutti Tutti Dovete contare Tiro su Per cazzo lungo Ehm Che mo Ah dovevo fare 200.000 punti Ne ho già fatti 300 Cioè Sono troppo forte No Azz Così proprio Ti viene proprio Il dolore atomico Grazie mille Fabietto Mi scusi Se le ho fatto fare Un po' la telecronaca Stasera Ma purtroppo È andata così Buona Serata E Buona notte E buon inizio settimana Fabietto No Come 9 Io ne ho contati 8 Mostra a Jimmy Come si gioca Una partita amichevole Cioè Ah una partita Una partita amichevole Va bene Va bene Se ce la facciamo Finiamo Ah sono contro Jimmy Ok Se ce la facciamo Finiamo sto coso E poi concludiamo In bellezza La live Ah questa è una partita amichevole Siamo contro computer 3 a sinistra 2 a destra E 4 3 a sinistra Oddio Dopo vado a contarli Cioè dopo rifaccio il quadrante Che li devo contare Per fozza Io ne ho sempre contati 8 I am presby Può essere A sinistra A sinistra intendi La barchettina Quella impennata Sull'onda Che c'era una barca Che era tipo Quasi Quasi verticale Eh E dopo li riconto Stiamo vincendo Eh mica tanto Jimmy detto palle 4 A calmo Jimmy Eh però qua devo prendere Laranzio Oh no Se prendeva anche il viola Era meglio E qua Ti prendi un bel Supera un livello Di Bourne Jimmy Renfield Uno dietro Ah Azzo Che duballe Eh Vediamo se ce la facciamo Altrimenti lo facciamo La prossima volta Questo Che questi sono i livelli Sfida speciali Di Peggle Knights L'unico e miglior Peggle Della storia Chi dice al contrario Ovviamente Sta mentendo Ed è una brutta persona Allora Chi è? Ma io Che faccio punti? Eh canestri No Ti va anche bene Piccola domanda Signorina amichi Che evento speciale C'è in Overwatch 2 In sto periodo Che Tipo almeno su Magic Ha messo roba di Halloween Però non è che abbia messo Di eventi Della Madonna E dunque però Credo che Su Overwatch 2 Abbiano messo roba E appunto Che cosa c'è? Non ho mai fatto caso Cos'è L'evento Halloween Esco Ah fa culo O forse sì Non è mica La sopravvivenza Castello No Halloween Per gli amici Howlin Eh però Però Minchia 40 euro Con 40 euro Ti fai Una emota e mezza LOL Ma se la tengono Bravissima No Alle skin Che costano troppo Magari anche Su un personaggio Che non usi Ma dopo di eventi Di roba di ciccia Non c'è niente Ah ok Ok Non c'era mica Anche l'anno scorso Questo è il secondo O il terzo Mi sbaglio C'era anche L'anno scorso Mi ricordavo di aver visto Un tuo pezzo di live Dove stavi facendo Tipo una roba del genere Culo Mi va su Forse ricordo Quello Era tipo una roba Nel castello A ondate Vabbè Lilith E' quella di Diavol 4 Quindi Giustamente Esista Io purtroppo Overwatch L'ho disinstallato Quasi subito Sarà anche Free to play Però Non zabrei Ah ok Ok Ovviamente Diciamo Inventiva zero Proprio Però adesso Che comunque Il team di Overwatch E' stato acquistato Da Microsoft Si spera che Ci sia più ciccia Dai che già Facciamo a primo colpo Anche questo Fammi un bel canestro Sto cazzo Niente qua Mi tocca fare il buco di Dio Sempre meglio Palle Le palle Di Natale Ecco Adesso Non potresti Neanche giocare Al primo Perché Se c'è il secondo Madonna Dopo che si è saputo Che hanno tagliato Tanti contenuti Che la community Voleva Diciamo che L'ho disinstallato Ecco L'ultima Ultima gara Ultimo zero Esatto Una delle poche modalità Davvero che mi era piaciuto Di modalità extra C'è anche la modalità Con la tizia Che spara le palle di ghiaccio Tipo Però è bello Palle di Natale Dai Che tra poco È Natale It's the most wonderful time Of the year Mamma mia Prendi anche l'altra O no? Anche voi siete gente Che gioca palle di Natale A Natale Ad Overwatch? Fatemelo sapere Canestrami E boh Dovrei vederla Se c'è ancora Che capita Che magari Sei in live E la fai La posso fettere Ah È fanculo Favamo un altro È in cribbio Però l'evento di Halloween In Overwatch C'è già Credo di sì Sicuro Perché Se c'è In Magic Sì no Quello Assolutamente Su quello Condivido pienamente Che Cioè Siamo a metà ottobre Poi dipende Quando questo video Uscirà sul mio canale Però A metà ottobre Che ci sono già le robe De Natale Tranne I pandori I panettoni Pronti da farcire Porca miseria E niente Abbiamo 50.000 Perché non potevo fare Un'altra volta 100.000 Se nel primo video Abbiamo completato Una sfida In un video Questa volta Ne abbiamo completato Ben 4 In una singola Partita Aspettate che mi segno tutto Noi ovviamente Ci vediamo Alla prossima Con nuove sfide Alla prossima